Buona domenica dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Si ricorda l'allerta meteo per la giornata odierna che prevede possibili nevicate sul tratto appenninico della A1 e vento forte e pioggia su tutta la regione. In A1 si riscontrano 5 km di coda per incidente in via di Pristino tra il Bivio A1-A11 e il Bivio A1 variante Baccheraia in direzione Bologna. Per lo stesso incidente è bloccata la strada provinciale 107 di Legri. Per un guasto alla stazione di Prato Centrale il treno 18518 viaggia con 25 minuti di ritardo con cancellata la tratta Lucca-Viareggio attivato bus sostitutivo. Il treno 18525 Viareggio-Firenze-Santa Maria Novella cancellato e sostituito con bus in partenza alle 16.10. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!